Ufficiale dell'Udinese. Pierpaolo Marino lascia dopo 4 anni il Club Friulano. Il comunicato stampa Pierpaolo Marino e l'Udinese si salutano dopo 4 anni. Di seguito il comunicato del Club Friulano al termine della stagione sportiva 20.222.023 l'Udinese. Calcio e Pierpaolo Marino non proseguiranno il loro percorso insieme. Marino ha rappresentato per l'Udinese un valore aggiunto tutti gli anni vissuti da dirigenti in bianco-nero, condividendo con il Club un ciclo molto importante dalla fine degli anni 90 per poi contribuire. Negli ultimi 4 anni. Al consolidamento della squadra che ha sempre confermato. Anticipo. La sua partecipazione al massimo campionato di Serie A.